Musica Primo giorno di lavori sulla Trignina, caos e disagi, due chilometri di coda al semaforo, si lamentano gli utenti. Non ci sono ferite sul corpo della 48enne trovata priva di vita a Campobasso, effettuata l'autopsia. L'ASREM ha approvato la graduatoria, assunti a tempo determinato 11 anestesisti, intanto è pronto il bando pediatri. Dopo l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Campobasso, i residenti iscrivono alla sindaca. Tornano tra i banchi di scuola gli alunni molisani, tra emozioni e speranze, suona la prima campanella. Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di TV Molise. Ogni giorno alle 13.30 sul canale 12, i primi ad andare in onda con l'informazione regionale del Molise. Buongiorno, cominciamo subito con la notizia di cui già tanti automobilisti si sono accorti. Quello che sta succedendo sulla Trignina. Disaggi, caos, sono partiti i semafori alla Galleria Serra. Ci racconta tutto la nostra Carla Marino. Almeno 20 minuti che però diventano di più se c'è traffico e quindi se la coda dei veicoli in sosta si allunga. Grossi disagi si sono riscontrati questa mattina lungo la Trignina per l'interruzione con senso unico alternato e semaforo prima della Galleria Serra. Sono partiti i lavori che interesseranno il tunnel e la cui conclusione è prevista per il 28 febbraio 2025, data in cui dovrebbe avvenire la rimozione dell'impianto semaforico. Intanto al primo giorno le agnanze sono state raccolte da parte degli utenti per l'incremento dei tempi di percorrenza. Da quanto tempo siete fermi? Almeno 20 minuti siamo fermi qua. Noi non lo sapevamo nemmeno, volevamo fare una gita, sono dei parenti a casa che vengono dalla Polonia e abbiamo trovato questo casino. Sì, da 20 minuti. Non sapevate, avete trovato questa coda? Sì, sì. Tra i passeggeri fermi in attesa anche un gruppo di turisti provenienti dalla Polonia. We came from Poland. Le code iniziano più o meno dal chilometro 2, ovvero dal cartello che segna l'inizio dei lavori e si protraggono fino al chilometro 4. I problemi maggiori sono riscontrati dagli autotrasportatori che percorrono questo tragitto quotidianamente. Sarà un quarto d'ora abbondante. Rischio pure di arrivare tardi a consegnare la merce. Questa è stata una cosa improvvisa, io non lo manco sapevo. Almeno metto un cartello che dice guarda, dalle giorni ci sta il semaforo che dura un'eternità. Che significa per chi fa questo mestiere trovare un'interruzione di questo tipo? Sarà uno strazio. Per noi che viaggiamo tutti i giorni su questa strada con 100 macchine sarà uno strazio. 20 minuti è già buona, però 20 minuti ancora devo passare. 20 minuti mi accontento pure. 20 minuti all'andata e 20 minuti al ritorno. Si tratterà di ore qua. Viabilità in Molise, problemi e davvero problemi, tanti problemi, sia in provincia di Senna che in provincia di Campobasso. Un problema drammatico quello dei collegamenti, se lo aggiungiamo a quello delle ferrovie. Insomma, siamo combinati proprio bene. E ora apriamo una lunga pagina sull'inizio dell'anno scolastico a Campobasso, Isernia e Venafo. Abbiamo i contributi dei nostri giornalisti. Cominciamo con Francesco Adamo a Campobasso. Primo giorno di scuola che parte con i soliti auguri da parte di sindaci e presidenti, ma con in più novità dell'ultimo minuto che per tempistica sollevano malumore. È successo all'Istituto Comprensivo Dovidio, dove la dirigente Rita Massaro ha comunicato che le sezioni C e D delle classi quinte del plesso Nina Guerrizio di Via Berlinguer venivano trasferite al plesso di Via Gorizia. Questo a meno di 48 ore dall'inizio della scuola, il provvedimento senza alcuna motivazione. Il fatto è mandato su tutte le furie genitori degli alunni interessati dal provvedimento. Come mai questo problema di spazi è stato verificato solo al momento del suono della campanella? Poco edificante il rimpallo delle responsabilità dalla dirigente scolastica riversate sull'amministrazione comunale e da quest'ultima rimbalzate nuovamente sulla preside che effettivamente può disporre il trasferimento di classi presso altri plessi che fanno parte dell'Istituto Comprensivo. L'amministrazione comunale si è mostrata comunque disponibile per cercare di ridurre al minimo i disagi, fornendo a titolo gratuito uno scolabus per trasportare i studenti da Via Berlinguer a Via Gorizia. Sul fronte dei provvedimenti di spostamento delle scuole accolti favorevolmente, la soluzione è predisposta dalla provincia di Campobasso per collocare da gennaio 2025 i studenti della scuola secondaria di primo grado della Dovidio di Campobasso in dieci aule dell'Istituto Pilla di Via Veneto. Tante questioni in ballo, quindi tutte in evoluzione. Un anno scolastico che si preannuncia complesso. Si consiglia a tutti di dotarsi di spirito di adattamento. E ora andiamo a Isernia, vediamo dove è andata Carla Marino. Torna a suonare la prima campanella e tornano ad affollarsi a Isernia i cortili delle scuole di ogni ordine e grado, tra emozione e ricordi di un'estate finita e le speranze di un nuovo anno che inizia. Una campanella particolarmente emozionante per gli alunni della primaria e soprattutto per quelli che affrontano per la prima volta questo nuovo percorso, come i bambini delle prime classi dell'Istituto San Giovanni Bosco, che insieme ai genitori hanno varcato la soglia dell'edificio scolastico a seguito di una toccante cerimonia di accoglienza. Tante mamme, ma anche tanti papà per il primo giorno di scuola. Da papà, che cosa si prova? È una grande emozione. Oggi la mia figlia grande inizia il suo percorso, inizia la prima elementare. Speriamo questo percorso di crescita che li inserirà nel mondo dei ragazzi, nel loro percorso di vita. Da nonno, cosa si prova? Questa è la terza volta che ho dei nipotini che iniziano il primo anno a scuola. Sono felicissimo e anche un po' orgoglioso. Ma l'emozione più grande probabilmente l'hanno vissuta i diretti protagonisti. Sei contenta di iniziare la scuola? Sì! Che cosa vuoi fare il giorno in classe? Che ti piacerebbe fare? Scrivere! Sono emozionata. E che cosa pensi che farai a scuola? Tante cose bellissime. Oggi è il primo giorno di scuola. Che cosa pensi? Che mi piacerà un pochino. Che cosa ti aspetti di fare in questi giorni? Di tante cose belle. Sei contento? Sì! Cosa ti aspetti da questa scuola? Bene! Il dirigente scolastico Giuseppe Posillico ha aperto l'anno con un messaggio rivolto agli studenti. Innanzitutto di buona salute. Può sembrare banale, ma io credo che è un elemento imprescindibile per affrontare serenamente, non solo l'anno scolastico, tutte le azioni di vita quotidiane. Poi c'è da dare applicazione a tutte quelle che sono le indicazioni che il Ministero ci ha dato, dal non utilizzo dello smartphone all'interno della scuola secondaria di primo grado. Soprattutto cercare di creare il più possibile un ambiente sereno dove gli studenti possano realizzarsi e raggiungere gli obiettivi in maniera efficace ed efficiente. E ora ci spostiamo a Venafro. Vediamo cosa ci racconta Gerardo De Luca. Al Giordano di Venafro, tanti ragazzi prima del suono della campanella davanti alla scuola. Primo giorno di scuola, quali sono le aspettative per questo nuovo anno scolastico? Ma sicuramente, come tutti gli anni, cercheremo comunque di portare a termine tutti i nostri comiti, di integrare bene soprattutto i primi e comunque di farli sentire a proprio agio perché, come è giusto che sia, la scuola deve essere un luogo di integrazione. Le aspettative sono di migliorare sempre di più, siccome l'ultimo anno abbiamo anche gli esami. Il percorso è di crescere sempre sull'economia pratica, più o meno sul geometra, siccome faccio il geometra, è di migliorare sempre di più nelle attività pratiche. Con i professori abbiamo quasi tutti un bel rapporto, tra compagni di classe ogni tanto c'è qualche disguido, ma per il resto tutto bene. Allora, essendo il mio ultimo anno, mi aspetto un anno comunque intenso, pieno di studio. L'importante è che comunque dopo lo studio c'è anche un po' di divertimento con i nostri compagni. Il professore Marcellino D'Ambrosa, preside dell'istituto, ha parlato delle novità previste per il nuovo anno scolastico. Cominciamo con conferme per le cose che hanno funzionato lo scorso anno, ma anche con tante novità. Il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, fa il punto sulla situazione riguardante l'edilizia scolastica venafrana. L'anno che sta iniziando è caratterizzato dai cantieri delle nuove scuole, quelle che stiamo realizzando per dare scuole sicure e innovative agli studenti. Anche l'europarlamentare molisano Aldo Patriciello ha voluto inviare il suo messaggio ai ragazzi per il rientro in classe. In bocca al lupo ai nostri ragazzi e a tutti gli insegnanti per il loro primo giorno di scuola. Redistribuzione delle deleghe ai consiglieri regionali, Stefania Passarelli replica le critiche mosse da WWF e Lega Ambiente in merito ai recenti provvedimenti del Governatore Roberti. Redistribuire le deleghe, dice la Passarelli, coinvolgere in un percorso virtuoso i consiglieri regionali, individuando per ognuno il settore di competenza specifico, non è affatto un'operazione che mira a depotenziare gli ambiti intervento, ma è l'esatto contrario. E ora ci spostiamo sulla cronaca, vediamo che succede a Capobasso dove ci sono i primi risultati dopo l'esame autoptico alla donna trovata morta in casa. I casi delle morti in solitudine stanno man mano svelando la loro dinamica. Pochi giorni orsono, quello della donna 76enne incontrata macchie, vittima di un incidente domestico. Ora delle risposte arrivano anche per il decesso della 48enne di piazza Sant'Antonio Abate. È stata infatti eseguita l'autopsia sulla salma della donna dall'anatomo patologo Massimiliano Guerriero. Un esame particolarmente difficoltoso a causa delle condizioni della salma in avanzato stato di decomposizione. Un particolare che conferma come la donna fosse morta da tempo, mesi probabilmente, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Lo ricordiamo, la donna originaria di Molfette è stata trovata nel bagno mentre il suo cellulare è sul tavolo della cucina. L'utilizzo ultimo del cellulare, risalente a circa due mesi fa, ha rafforzato l'ipotesi di una morte risalente alle circa 60 giorni fa. I risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Campobasso hanno rilevato che sul corpo non sono presenti segni di ferite, lesioni riconducibili a percosse o a colluttazioni. Ora bisogna attendere solo il risultato delle analisi dei campioni prelevati per chiarire se la donna abbia assunto farmaci o sostanze che hanno causato la morte. Quindi, ipotesi del decesso, riconducibile al momento a quello della morte naturale dovuta ad un malore. Bene, il servizio era di Francesco Adamo. Intanto a Isernia per i 12 studenti dell'ISIS Fermi Mattei inizia un percorso sperimentale di 4 anni, una novità delle ultime ore. Abbiamo Carla Marino con il suo servizio. La riapertura dei cancelli all'ISIS Fermi Mattei di Isernia segna l'avvio di un nuovo percorso scolastico sperimentale che si inserisce nei più recenti indirizzi ministeriali volti a innovare il modello formativo. Si tratta del corso quadriennale in informatica e telecomunicazioni. Una sperimentazione fortemente evoluta dal ministro Valditara, alla quale abbiamo aderito insieme a un'altra scuola di Termoli in Molise, quindi in provincia di Isernia siamo gli unici. I ragazzi potranno conseguire il diploma come tecnico informatico, indirizzo informatica, in soli 4 anni e poi accedere a un biegno all'ITS Demos Academy o altrimenti a tutte le possibilità che offre un normale diploma. Un modulo all'avanguardia anche per quel che riguarda l'organizzazione della didattica. Noi abbiamo articolato questo corso, lo abbiamo pensato in maniera innovativa, un po' europea, quindi i ragazzi fanno la settimana corta e fanno tre rientri a settimana con la possibilità durante la pausa pranzo di allontanarsi da scuola, ovviamente col consenso dei genitori o rimanere qua, insomma essere abbastanza liberi, flessibili. Il pomeriggio ci sono attività laboratoriali e praticamente i compiti non esistono perché viene tutto svolto a scuola. È una grande sfida, è un'idea molto innovativa di scuola superiore. Particolarmente promettenti le prospettive post diploma. È un percorso per formare lavoratori specializzati che restino su questo territorio, restino in Molise, in provincia di Sernia, quindi è qualcosa di molto importante affinché questi ragazzi vengano formati a misura appunto della richiesta di tecnici specializzati fatta da queste aziende partner. C'è anche tra l'altro l'Università del Molise. Sono 19 gli studenti che hanno iniziato il nuovo corso quadriennale. Voglio diplomarmi prima e anche perché mi piace come corso. Che cosa ti aspetti? Un bellissimo corso da come mi è stato presentato. Mi è sempre piaciuto l'informatica, quindi computer, dispositivi tecnologici. Con il diploma, quali prospettive? C'è assistente del computer, queste cose qua diciamo. Io sempre ho voluto fare l'esperto informatico, quindi lavorare con computer, dispositivi tecnologici. Ancora violenza a Campobasso nel centro storico. Antonia Cristinzio. Un episodio di violenza nel centro storico di Campobasso denunciato dai residenti di Sant'Antonio Abate, dove alcuni immigrati armati di mazze e pietre avrebbero iniziato a inveire contro i passanti. Panico tra chi ha avuto la sventura di trovarsi a passare proprio in quegli attimi nei pressi della salita San Mercurio. Sono continue le denunce degli abitanti e gli interventi delle forze dell'ordine. Una situazione, quella venutasi a creare nel borgo, non più sostenibile, dicono i cittadini, e che è approdata anche in Consiglio Comunale, con la seduta monotematica straordinaria dello scorso 28 agosto. Ma gli abitanti del centro storico chiedono che l'attenzione della politica sul tema non cali e hanno deciso di scrivere una lettera di appello alla sindaca di Campobasso. Denunciano, oltre agli episodi di violenza, anche l'occupazione abusiva di locali di proprietà, cantine divenute alloggio per immigrati. A Sant'Antonio Abate, ormai da tempo, alcuni vedono occupati i propri locali da coperte e cuscini per dormire. I residenti chiedono un intervento serio, offrendo tutta la collaborazione possibile per riportare un po' di serenità nel luogo in cui vivono e che amano. E se la politica sembra latitare, sarebbero già partite operazioni mirate da parte della polizia. La Questura ha avviato indagini approfondite per fare luce sull'escalation di violenza. Ieri agenti in borghese hanno effettuato perquisizioni in alcune abitazioni del borgo, occupate per lo più da migranti. L'operazione, svolta con discrezione, ha visto l'intervento della polizia in edifici considerati sospetti per attività legate allo spaccio di droga. Ma i cittadini continuano a sentirsi impotenti davanti a una situazione che sembra irrisolvibile. Nel centro storico di Campobasso spiegano neppure la presenza delle forze dell'ordine sembra intimorire chi delinque. Brutto, brutto episodio accaduto a Isernia. Un'automobilista ha investito un gatto e poi, diciamo, invece di fare qualcosa per quel povero gattino, è scappato via. Antonio Leone. Investe un gatto in pieno centro, scende dall'auto e poi si dilegua senza soccorrerlo. Tutto questo davanti agli occhi increduli di bambini e passanti che hanno assistito all'intera scena. E visto il povero animale contorcersi e soffrire per poi esalare l'ultimo respiro, è accaduto qualche giorno fa a Isernia. In pieno centro, la denuncia arriva dalla sezione provinciale dell'EMPA, ente nazionale, che si occupa di protezione degli animali. Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha voluto mettere al corrente la cittadinanza di quello che è accaduto nel capolugopentro. L'automobilista, da quanto si apprende, dopo aver travolto l'animale, sarebbe anche sceso dall'auto, ma visto il povero micio a terra, in preda agli spasmi, sarebbe risalito in auto e una volta acceso il motore si sarebbe allontanato rapidamente. Come detto, però, ad assistere alla scena una comitiva di bambini e alcuni passanti, è proprio a loro che l'EMPA ora si rivolge chiedendo informazioni utili per identificare chi ha compiuto il gesto, il numero di targa o qualsiasi altro indizio da segnalare alle autorità competenti. Queste ultime, come si legge da alcuni commenti, sarebbero già state informate dell'accaduto. Ora è responsabile. Rischia grosso per il mancato soccorso a un animale investito. Il codice penale prevede la reclusione da 3 a 18 mesi o una multa da 5.000 a 30.000 euro. Ma quanto accaduto qualche giorno fa, riferiscono alcuni cittadini, è solo l'ultimo di una serie di episodi simili avvenuti in città. Sono diversi i casi di animali investiti in pieno centro e che non sono stati soccorsi. Non è escluso, secondo più di qualcuno, che dietro possa esserci la stessa persona che investe i gatti intenzionalmente. 11 anestesisti prenderanno servizio negli ospedali molisani per far fronte alla grave carenza di dirigenti medici di questa disciplina. Intanto nuova emergenza pediatri. L'ASREM ne cerca 11. E chiudiamo con l'ultimo servizio di Antonia Cristinzio sul Biotour in corso ad Agnone, anzi che verrà gestito ad Agnone. Il progetto vediamo di chi è e nel servizio della nostra Antonia Cristinzio. Un incontro con esperti del settore per scoprire nel dettaglio come funziona la produzione nel mondo del biologico, quali opportunità ci sono per i giovani che vogliono fare impresa e quali soluzioni di supporto ai nuovi insediamenti sono perseguibili. Tutto pronto ad Agnone per la quarta tappa di Bio in Tour, il progetto di promozione del biologico dell'Associazione di produttori Sardegna Bio e della Rete Nazionale dei Distretti Biologici d'Italia. Si parte il 13 settembre alle ore 10 a Palazzo San Francesco, un appuntamento alla scoperta del biologico italiano che si rinnoverà anche il 14 settembre dalle 18 alle 24. Verranno ad esporre delle aziende sarde tutte bio. Ci sarà un convegno in mattinata presso la sala consigliare dove ci confronteremo con tutte le aziende sia extra-regionali che regionali proprio per valorizzare i sistemi enocastronofici con un indirizzo verso il bio che sta assumendo sempre più valore in termini di quote di mercato e in termini di valore assoluto. Scopo dell'evento Bio in Tour è quello di contribuire al potenziamento e all'innovazione dei sistemi locali attraverso la formazione e l'informazione. Ci sono molte aziende molisane che si stanno indirizzando verso il bio questo ha dimostrazione che il mercato richiede un prodotto di qualità e questo premia anche le aziende molisane visto che io dico sempre essendo rimasti indietro oggi abbiamo un territorio pulito e quindi possiamo assolutamente con i nostri prodotti andare a conquistare delle nicchie di mercato importanti e speriamo che a farlo siano sempre più imprenditori giovani che intraprendano questa via di valorizzazione dei territori. E speriamo bene che questo progetto vada in porto io vi ringrazio per la gentile attenzione ringrazio i tecnici la regia e passo la linea ai colleghi dell'Abruzzo buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti